Ciao, sono Daniele Bezzana di WPOK. Oggi parlo di GTmetrix, uno strumento che utilizziamo per verificare la velocità di un sito WordPress. Ma magari più che la velocità, le performance, se un sito è ottimizzato e se ci sono delle cose migliorabili per rendere il sito più veloce, ma anche più reattivo e farlo funzionare meglio. Perché è importante la velocità? Allora, due motivi fondamentali. Il primo è che chi visita il tuo sito non sta a aspettare. Ci sono diversi studi che dicono che se un sito carica in più di tre secondi, una certa percentuale dei visitatori chiuderà il sito, andrà via e non tornerà mai più. Secondo me è una cosa esagerata, anche se non metto in discussione questi test, ma è ovvio che un sito lento dà fastidio. Se una pagina ci mette tanto a caricare e poi torna indietro, ci mette ancora altri secondi. Dà fastidio e c'è una cosa che si chiama Hilo Effect, per cui se un sito è lento, le persone pensano che i tuoi servizi, che tu o che quello che vendi, è lento. Se un sito è brutto, pensano che il tuo servizio, il tuo prodotto sia brutto. È una cosa psicologica di cui c'è poco da fare. Secondo motivo molto importante è che Google ha detto e stradetto che la velocità è importante. Google vuole un web che sia più veloce, e per questo anche qua studi dicono che siti più veloci hanno dei posizionamenti migliori all'interno dei risultati e motori di ricerca. Ok, adesso che ti ho spiegato brevemente perché è importante avere un sito veloce, parliamo di GTmetrix, che è proprio il tool di cui ti voglio parlare oggi. GTmetrix è semplicissimo da utilizzare. Basta inserire qui l'indirizzo URL del sito che vuoi controllare e farà un'analisi. Ora, una cosa importantissima da fare, che spesso non vedo fatta, è che andare nelle opzioni dell'analisi e scegliere la location da cui effettuare il test. Cosa significa? GTmetrix ha dei server sparsi nel mondo, c'è Dallas, Hong Kong, Londra, Mumbai, Sydney, eccetera. È importante fare il test il più vicino possibile fisicamente al server, o meglio, il più vicino possibile ai visitatori del tuo sito. Se tu hai un sito che ha dei visitatori italiani, per esempio, come possibile che sia, è molto importante selezionare Londra. Purtroppo non hanno dei server in Italia o in posti fisici più vicini. In Europa hanno Londra, per cui è molto importante selezionare Londra. Perché dico questo? Perché in questo modo GTmetrix fa il test con una prospettiva al più possibile vicina a quella del tuo utente. Facendo il test da Vancouver in Canada, ci sono dei ritardi nella rete, proprio nella rete internet, che rendono i risultati un po' falsati. È abbastanza normale vedere un po' di secondi di ritardo addirittura se si fa facendo il test da una location che è troppo lontana. Faccio un test inserendo un sito che ho provveduto a disottimizzare. E questo è uno dei miei siti, uno dei miei progetti. Ho tolto il caching, ho tolto tutte le ottimizzazioni per farvi vedere che cosa succede, cosa si vede quando un sito non è ottimizzato. GTmetrix ci mette una decina di secondi per fare l'analisi, eccetera, e ci presenta una pagina con una serie, con i risultati. Eccoli qua. Il performance report. Come leggere questo performance report? Allora, innanzitutto, vabbè, qua dice la data e l'ora, ci dice il server region, quindi, come dicevo prima, ha impostato Londra. Ha testato utilizzando Chrome come browser. Anche questo si può cambiare, consiglio di lasciare il default. Tra l'altro, Chrome è il browser più utilizzato. E qua ci sono i punteggi. Ora, partiamo dalla parte più concreta. Questi dettagli. Quanto tempo ci ha messo il sito per caricare completamente? In questo caso, quattro secondi. Qual è la dimensione totale della pagina? E quali sono? Quante richieste sono state fatte? Cosa significa richieste? Richieste significa ogni pagina ha diversi elementi. Pensa alle immagini. Ogni immagine è un elemento diverso. Pensa ai JavaScript. Ogni JavaScript è un elemento diverso. Se carichi delle cose esterne. Sono tutti elementi. In questo caso, la pagina ne ha 96. Ora, per darti un'idea, un sito ottimizzato dovrebbe caricare in meno di tre secondi. Dimensione fino a 2 MB è abbastanza accettabile. Sopra i 2 MB ci sono probabilmente delle immagini o delle altre risorse molto pesanti. E avere un numero di richieste il più basso possibile. A livello indicativo, un sito abbastanza normale, vedere siti con una cinquantina di richieste. Il parametro molto importante è quanto tempo impiega il sito per caricare correttamente. Perché è questo che ci dà l'indicazione della velocità. Questo vuol dire che se il tuo sito carica in... Silenzio questo, se no... Se il tuo sito carica in tre secondi, non vuol dire che è ottimizzato. Potrebbe esserci comunque possibilità di spazio per migliorarlo ancora di più. Quindi questa è solo un'indicazione. Poi, questi sono i performance score. Dove c'è il page speed. Page speed è un'indicazione, un punteggio che dà un algoritmo inventato da Google. E jslow, che è stessa cosa però fatta da Yahoo. Ora, questi sono dei numeri che significano... Sono delle indicazioni da non prendere troppo sul serio. Perché? Perché alcuni pensano che l'obiettivo di ottimizzare il sito è arrivare al 100%. E quindi finché non sia al 100% il sito non ottimizzato. Questo in linea teorica, in linea pratica, è impossibile arrivare al 100%. La maggior parte dei siti arriva tra l'80% e il 90%. Alcuni siti vanno dal 90% al 95%. 100% è un'utopia. E comunque non è l'obiettivo. L'obiettivo è di avere il tempo di caricamento più basso possibile. Queste indicazioni, ripeto, sono delle indicazioni. Tra l'altro page speed, che appare qui, è sempre diverso dal page speed che appare facendo un test da page speed insight, dal sito di Google. Perché Google all'inizio dava la possibilità di calcolare il page speed utilizzando le API, vabbè, senza entrare troppo nei dettagli. Di fatto Google ha fatto una cosa che fa sempre. Ha deciso di modificare le cose senza dire a nessuno come sta funzionando in questo momento. Quindi il page speed che vedete sul sito di Google... Sto parlando del page speed insight e vado a caricare ora questo. Dicevo, se fate un test da questa pagina vedrete dei punteggi diversi. Questo perché GTmetrix, in generale, nessuno ha accesso alla formula esatta che utilizza Google in questo momento. Quindi utilizzano delle approssimazioni indicative. Anche questo non c'è assolutamente da preoccuparsi. Dicevo, l'obiettivo non è arrivare al 100%. E per farvi una prova vi faccio vedere Yahoo, Yahoo stessa, che ha inventato questo J-Slow, questo algoritmo. Questi sono i risultati del sito di yahoo.com. Io rido ogni volta che li vedo. Page speed 68%, J-Slow addirittura 45%, rosso perché è pessimo. Si carica in 18 secondi. Sono sotto i 2 MB e sono 224 richieste con un numero molto alto. Questo perché hanno tutta una serie di script che caricano, eccetera. Quindi perché... Lo dico perché anche i grandi come Yahoo, pensate quanti ingegneri, quanti web developer, quante risorse Yahoo ha per ottimizzare un sito, e il sito carica in 18 secondi. Questo perché? Perché la velocità alla fine è un trade-off, è un compromesso. È un compromesso. Una pagina bianca si caricherebbe velocissima, si caricherebbe in 200 millisecondi. Però che cos'è una pagina bianca? Non è un sito. Con più cose includiamo le nostre pagine, con più elementi, con più informazioni, scusate, informazioni, con più la pagina diventa lenta a caricare e si appesantisce. Quindi è sempre un compromesso tra quello che inseriamo nella pagina e quello che... e la velocità che vogliamo ottenere. Ora, continuo con questo esempio. Qui sotto GTmetrix ha queste tab che permettono di capire quali sono le raccomandazioni per migliorare la PageSpeed, J-Slow e... Partiamo dalla J-Speed. Ora, queste sono tutte cose abbastanza tecniche. Quelle in verde vuol dire che sono già ottimizzate, ottimo, molto bene, top. Quelle in rosso vuol dire che sono da ottimizzare. Ora, non entro nel dettaglio di ognuna di queste voci, ma posso dare un'indicazione... vabbè, un'indicazione di alcune. Per esempio, Leverage Browser Caching. Tutte queste risorse, quindi sono varie immagini che vengono caricate da questo sito 8word, non sono ottimizzate. Non sono... Non c'è questo Leverage Browser Caching. Cosa significa? Significa che quando un sito fornisce l'immagine al tuo browser, il mio browser scarica l'immagine e nella richiesta che ricevo, nella risposta, chiedo l'immagine, mandami l'immagine, ricevo l'immagine e nella risposta ricevo anche, ah, guarda che questa immagine non cambierà per i prossimi... per le prossime 24 ore. Quindi il browser sa che per 24 ore non deve stare a ricaricare l'immagine. Pensa al logo del tuo sito che viene caricato in tutte le pagine. Basta scaricarlo una volta e dire, ok, questo rimane uguale per 24 ore, non devo stare a caricarlo ogni volta. Quindi lo carichi una volta invece di caricarlo una volta per pagina. Senza questa indicazione, in questo caso a Dateboard, manca questa configurazione, quindi quando chiedo l'immagine, non mi dice che varrà per 24 ore e quindi il browser la continua a richiedere per ogni pagina. È una delle ottimizzazioni base e più gravi, diciamo, perché appesantisce notevolmente anche il server. E un altro esempio, Scaled Images, cosa significa? Significa che, per esempio, questa immagine è mostrata in originale 150x150 pixel, ma viene mostrata a 61x61. Questo è un errore molto comune. A volte ci sono delle immagini, vedo clienti che hanno immagini da 2000 pixel, che vengono caricate in un quadratino piccolo così, significa che sto caricando un sacco di dati che sono sprecati e che appesantiscono il caricamento. Poi, passo sulla parte J-Slow, consiglia di utilizzare un content delivery network, anche questo è un sistema di caching di cui ho parlato separatamente. C'è questa indicazione degli URL redirects, perché la pagina passa da dateboard.com a www.aidboard.com. Ci sono tante indicazioni utili su cosa ottimizzare. Ci sono anche delle indicazioni che non sono utili, perché non è possibile agire. Una di queste cose è il classico use cookie free domain. Ora, cookie free domain è legato al fatto che anche quando chiedo un'immagine al sito, mi vengono... trasferisco i cookie che ho all'interno del mio browser legati a quel sito e questo è inutile, appesantisce le operazioni. Consiglio di utilizzare un dominio che non è collegato ai cookie, questo è un atto pratico, è molto complicato da fare. Ancora, è un compromesso. Vuoi ottimizzare questa cosa? Ok, non è una cosa che fai né in 5 né in 10 minuti né in 20 minuti, è una cosa che richiede un lavoro più complesso e che per siti piccoli sinceramente non ha senso. E altra cosa che non è molto... Ah, gli expire headers e in generale qualunque indicazione ha senso se si parla di risorse all'interno del nostro sito. Quindi qui tutte le risorse che hanno... sono sul dominio 8board ha senso. Risorse, per esempio, questa qua di AdDiz, di Facebook e altre non le possiamo ottimizzare noi. È fuori dal nostro controllo perché arrivano dal server di Facebook, eccetera. Quindi ottimizzare le immagini, ecco, questo è un altro punto che vedo spesso. In questo caso sono abbastanza ottimizzate perché c'è un buon punteggio, però nevertheless, in ogni caso ci sono queste immagini che compresse, o meglio, più che compresse, se ottimizzate è la parola giusta, possono occupare meno spazio, essere più piccoli in termini di dimensioni. Cosa significa? Io posso avere un'immagine da mille pixel per mille pixel che occupa due mega e posso avere un'altra mille pixel per mille pixel che occupa 100k. Quella da 100k è... cioè l'obiettivo è ottimizzare un'immagine senza perdere la qualità. Ci sono delle tecniche di compressione attraverso dei plug-in come IWWW oppure WP Smush che permettono di fare questo lavoro di compressione delle immagini per ottimizzarle per il web senza perdere la qualità. E questa è una cosa, ecco, che fa parte di un'ottimizzazione di un sito. Che altro su... parlando di GTmetrix c'è il waterfall che è una cosa un po' più tecnica ma molto interessante perché fa vedere esattamente ogni richiesta che viene fatta dal sito in quanto tempo carica. La prima richiesta, per esempio, in 300... 333 millisecondi quindi 0.3 secondi per rispondere indica che probabilmente il server di questo sito non è molto veloce. e poi, insomma, a volte si può vedere si incontrano delle richieste guarda quanto sono veloci le richieste sul server di Facebook che caricano in 40 millisecondi possono esserci delle immagini molto grosse o dei rallentamenti dovuti a qualcosa che chiede troppo tempo quindi è utile da verificare. Poi, vabbè, timing fa capire divide il caricamento della pagina in diverse fasi e fa capire ogni fase quanto richiede. Video una cosa che non ho mai vabbè, non ho mai utilizzato ma permette di fare un video per vedere proprio il caricamento come se fosse il browser e la history è utile quando si va magari a fare più prove magari si sta facendo un'ottimizzazione di un sito si stanno facendo delle modifiche e qui con la history permette di capire come che risultati ci sono stati nel tempo quindi se sono andato a migliorare o a peggiorare. Con gdmetrics consiglio di creare un account io ho creato un account e questo permette di permette di salvare nei page setting la cose tipo il server la location del server e il browser utilizzare in modo che non dovete stare a ripetere ogni volta e inoltre se vado nell'home page mi fa vedere quali sono gli ultimi se ho un utente quindi faccio login mi permette di vedere quali sono gli ultimi siti di cui ho fatto il test per divertirmi ho fatto il test su un sito di cui si è parato qualche mese fa il sito della casa bianca whitehouse.gov è un sito wordpress e quindi si è fatto un gran parlare questo sito hanno scelto wordpress che figata ed è ecco per esempio loro hanno pre-speed 89 gsloss 78 carica in 2 secondi e 1 è un mega di pagina e ha 50 richieste è ovviamente un sito molto ottimizzato innanzitutto perché hanno un numero di richieste a un traffico sicuramente altissimo e quindi l'ottimizzazione vuol dire anche utilizzare meno risorse del server e poi vabbè un sito sicuramente hanno problemi di budget questo conclude la panoramica su gtmetrics è uno strumento molto utile è molto comodo sapere capire come funziona per tenere un occhio sulle performance del proprio sito per esempio se fate una modifica importante o anche comunque ogni tanto controllare le performance fa bene perché basta veramente una cosa magari un immagine troppo grossa uno script che non funziona più per per far abbassare notevolmente i risultati e le performance e quindi è buono tenere la cosa monitorata questo è quanto un saluto da me e dal mio fido assistente ah questa poi lo taglio eccolo qua mio fido assistente walk il chat bot messenger da seguire se utilizzi wordpress per il business e alla prossima ciao ciao